Buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione di lingua italiana per la sesta classe. Draghi uccenici e draghi uccenice, dobrodošli na sat italianskog jezika za šesti razred. Il mio nome è Mariana e oggi sono la vostra insegnante. Il mio nome è Mariana e oggi sono la vostra insegnante italiana. Il tema di oggi è il mio compleanno. Il mio nome è Moj roggiandana. Nacom današnje lekcije moći ćete Razumijeti kratki tekst o obilježnjima pripreme rođendanske proslave i događajima na proslavi. Razumijeti izraze čestitanja i izražavanja osjećaja. Dopuniti kratki tekst koristeći oblike pridjeva belo. Napisati kratki tekst rođendanske pozivnice. Per la lezione di oggi vi servono il quaderno, la matita o la penna, il cellulare o il computer con la connessione internet. Za današnju lekciju trebate bilježnicu, olovku ili chemijsku olovku, mobitel ili računalo s priključkom na internet. Potete metere la lezione in pausa in qualsiasi momento. Bitno je naglasiti da u bilo kojem trenutku možete pausirati leziju i nastaviti onda kada to vama odgovara. Leggete la poesija. Tutto je pieno di paloncini. Arrivano sempre gli amici carini. Non manca neanche la torta che di solito la mamma porta. Tutti insieme le candelline soffiamo e tante belle cose auguriamo. Osservate bene la foto. La foto ci mostra una festa. E' la festa di compleanno, vero? A tutti piacciono le feste di compleanno. Perché? Che cosa pensate? Perché tutti sono di buon umore. Perché ci sono tante decorazioni. Perché mangiamo la torta. Perché soffiamo le candeline. Perché festeggiamo con gli amici. E perché ci sono tantissimi regali. Leggete il biglietto d'invito. Cara Sara, ti invito alla festa del mio compleanno. Vieni a casa mia sabato alle 16. Ti aspetto, Chiara. Adesso scrivete l'invito. Le informazioni necessarie sono festa, giorno, ore, luogo. Mettete la lezione in pausa e scrivete. Controllate le risposte. La festa di compleanno è di Chiara. Il giorno della festa è sabato alle 16. E il luogo è la casa di Chiara. Leggete il testo. Mamma, scrivo i biglietti d'invito. Ti piacciono? Sono bellissimi. Andiamo al supermercato dopo. Sì, compriamo i salatini, i cioccolatini e le bibite. Io ordino le pizzette e preparo anche i tramezzini per la festa. Prepari anche la torta al cioccolato. È la mia preferita. Naturalmente, tesoro. La torta, i dolci, tutto. Che cosa manca ancora? Le decorazioni, la scritta buon compleanno e i piatti colorati. Compriamo tutto oggi. Rispondete alle domande. Aprite i vostri quaderni e mettete la lezione in pausa. Le domande sono Che cosa scrive Chiara? Dove vanno Chiara e la mamma? Che cosa comprano al supermercato? Che cosa ordina la mamma? Qual è la torta preferita di Chiara? Che cosa manca per la festa? Controllate le risposte. Chiara scrive i biglietti d'invito. Chiara e la mamma vanno al supermercato. La mamma e Chiara comprano i salatini, i cioccolatini e le bibite. La mamma ordina le pizzette. La torta preferita di Chiara è la torta al cioccolato. Mancano le decorazioni, la scritta buon compleanno e i piatti colorati. Quali sono i preparativi per la festa? Dobbiamo scrivere gli inviti, poi fare la spesa. Dobbiamo anche preparare la torta e i dolci. Poi apparecchiare la tavola e alla fine mettere le decorazioni. Abbinate le parole alle immagini. Mettete la lezione in pausa e scrivete. Controllate le risposte. I salatini Le pizzette I tramezzini I dolci Le bibite Leggete il dialogo. È sabato, il giorno della festa. Gli amici di Chiara arrivano e portano i regali. Chiara è molto felice. Buon compleanno! Auguri! Ecco il mio regalo. Grazie! Entrate! Prendete da mangiare e da bere. Grazie, Chiara! Buon compleanno, Chiara! Che bella festa! Grazie! Sono così felice! Andiamo a giocare! Completate il testo con le parole mancanti. Aprite i vostri quaderni e mettete la lezione in pausa. Controllate le risposte. Oggi è il giorno della festa. Chiara aspetta i suoi amici. Gli amici portano i regali. Chiara offre ai ragazzi il cibo e le bibite. I ragazzi vanno a giocare. Guardate la foto. È il momento più importante della festa. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri, Chiara. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tutti gridano. Buon compleanno, Chiara. Soffia le candeline. Esprimi un desiderio. Leggete il testo. Adesso apri i regali. Ecco il mio. Grazie. Che belle cuffie. Grazie, Luca. Ecco il mio regalo. Un nuovo CD di Ariana Grande. Che bel regalo, Sara. Grazie mille. Questa piccola scatola è molto interessante. Mamma mia, che bella colana. È una tua creazione, Lucia. Sì, è solo per te. Ci sono anche dei cioccolatini. Come sono buoni questi cioccolatini. Sono i miei preferiti. Adesso apri il mio regalo. Ecco. Che bello zainetto. Che bel colore. Grazie. Chiara scatta anche il mio regalo. Che bella maglietta. Grazie, Dina. Che bella sorpresa. Grazie a tutti. Rispondete se le affermazioni sono vere o false. Mettete la lezione in pausa e scrivete. Controllate le risposte. Chiara riceve il cd di un cantante. Falso. Chiara riceve il cd di una cantante. La colana si trova in una piccola scatola. Vero. La colana è una creazione di Sara. Falso. La colana è una creazione di Lucia. A Chiara piace il colore dello zainetto. Vero. Lucia regala una maglietta a Chiara. Falso. Dina regala una maglietta a Chiara. Adesso guardate i regali che Chiara riceve. Osservate bene le parole in verde. Sono le forme dell'aggettivo bello. Completate con le forme dell'aggettivo bello. Mettete la lezione in pausa e scrivete. Controllate le risposte. Perché vi piace festeggiare il compleanno? Perché è una bella idea invitare gli amici e fare una bella festa. Perché ricevo tanti bei regali. Adesso ho un bello zaino. Il regalo dei miei nonni. La mia mamma prepara la torta con tante belle decorazioni. Paolo, che belli occhiali da sole. Sì, l'ultimo regalo dei miei genitori. Adesso scrivete un biglietto d'invito. Mettete la lezione in pausa, scrivete e disegnate. Ecco un esempio. Caro Luca, festeggio il mio compleanno sabato pomeriggio. Ci vediamo a casa mia alle 17. Ti aspetto, Marco. Adesso scrivete cinque regali che Chiara riceve. Quattro cose da mangiare alla festa. Tre cose che mancano per la festa. Due frasi per fare gli auguri. La canzone che cantano. Mettete la lezione in pausa e scrivete. Ecco le risposte. I regali sono Le cuffie, la colana, il cd, lo zainetto, la maglietta, le cose da mangiare, la torta, i dolci, i salatini, le pizzette. Tre cose che mancano. Le decorazioni, i piatti colorati, la scritta, buon compleanno. Due frasi, buon compleanno, auguri. Il nome della canzone, tanti auguri a te. La lezione di oggi finisce qui. Arrivederci ragazzi. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.